La leggenda della fonte miracolosa di San Sebastiano continuerà ad affascinare i veneziani e i visitatori della città per molti secoli a venire. Nel corso degli anni, la storia di questo misterioso cavaliere che ha portato guarigione e protezione contro la peste a Venezia e alle suore del monastero della Giudecca è stata tramandata di generazione in generazione. La fonte di San Sebastiano ha continuato ad essere considerata un luogo sacro e un simbolo di speranza per coloro che erano afflitti dalla malattia. Ma c'è di più nella storia della fonte di San Sebastiano alla Giudecca. Mentre molte persone si accasavano al pozzo per bere l'acqua miracolosa, i residenti della città e le autorità locali hanno affrontato la sfida di assicurarsi che l'approvvigionamento di acqua non si esaurisse mai. Il pozzo, nonostante l'afflusso costante di persone in cerca di guarigione, sembrava non essere soggetto alla siccità. Questo ha portato molti a credere che il pozzo fosse dotato di una forza sovrannaturale che continuava a fornire acqua inesauribile a tutti coloro che ne avevano bisogno. Durante il Rinascimento, Venezia era una città in piena espansione e prosperità. L'arrivo della peste nel 1575 minacciava di portare con sé la sofferenza e la rovina. Tuttavia, la fiducia nella fonte di San Sebastiano era così forte che innumerevoli persone si affrettarono alla Giudecca nella speranza di guarire dalla malattia. La richiesta di acqua dal pozzo era così elevata che le autorità decisero di abbattere un muro e costruire un passaggio per consentire il flusso continuo di acqua potabile verso l'esterno con l'utilizzo di una tubatura. Questa soluzione innovativa ha permesso di soddisfare la domanda crescente e ha garantito che quante più persone possibile potessero beneficiare delle proprietà curative dell'acqua di San Sebastiano. Nonostante gli sforzi compiuti per garantire l'accesso all'acqua miracolosa di San Sebastiano. L'immenso numero di persone che affluentava al pozzo alla Giudecca durante l'epidemia di peste del 1575 rese necessari ulteriori interventi. Fu quindi pianificata e realizzata la costruzione di una struttura che potesse contenere un numero ancora maggiore di pellegrini in cerca di guarigione. Questa struttura, nota come la «Cappella di San Sebastiano», divenne un luogo di culto e devozione per i veneziani e i visitatori che cercavano un conforto spirituale durante i periodi di peste e altre malattie epidemiche. La fonte di San Sebastiano alla Giudecca non è solo un luogo di pellegrinaggio e venerazione, ma anche un simbolo di resilienza e speranza per Venezia. Nel corso dei secoli, la città ha affrontato molte sfide, tra cui epidemie di peste, guerre e catastrofi naturali. Tuttavia, la leggenda della fonte miracolosa di San Sebastiano ha continuato a fornire una fonte di conforto e fiducia nella guarigione e nella protezione divina. Oggi, la fonte di San Sebastiano alla Giudecca rimane un punto di interesse per i visitatori di Venezia. Sebbene il pozzo originale non sia più accessibile al pubblico, la sua storia e il suo significato perdurano nella memoria collettiva dei veneziani. La leggenda di San Sebastiano e la sua fonte miracolosa sono esempi della ricca tradizione culturale e religiosa di Venezia, che ha lasciato una profonda impronta nella storia della città. In conclusione, la fonte miracolosa di San Sebastiano alla Giudecca è una delle molte leggende affascinanti e misteriose legate a Venezia. La storia di questa fonte, che ha offerto guarigione e protezione dalla peste, ha continuato a ispirare e affascinare le persone per secoli. Nonostante le sfide che Venezia ha affrontato nel corso dei secoli, la fonte di San Sebastiano è rimasta un simbolo di speranza e resilienza per la città. La sua storia è un testamento alla forza della fede e alla capacità dell'umanità di superare le avversità. Grazie. Grazie.